Pensare di esaltare solamente nell'opinione pubblica i casi dei furbetti del cartellino o altre situazioni che sono molto marginali nella pubblica amministrazione sono offensive verso tutto un mondo che è impegnato fortemente a dare servizio al cittadino dalla mattina alla sera con il massimo della professionalità e dell'impegno. Non ci sta la Cisla retina a quello che sembra ormai diventato lo sport nazionale ovvero denigrare il dipendente pubblico. Le mele marce ci sono, siamo d'accordo, ma non possono rappresentare la maggioranza dei dipendenti pubblici. Di questo e di altri temi importanti come il recente rinnovo del contratto si è parlato all'hotel Minerva di Arezzo durante l'assemblea della funzione pubblica della Cisla. Di fronte a quella che è l'incertezza del nostro Stato in questa fase sia da un punto di vista di assetti istituzionali sia da un punto di vista di stabilità politica stanno vivendo un momento molto difficile perché proprio la nostra controparte tradizionale non ha stabilità. Ricordiamo che negli ultimi anni il lavoratore pubblico è stato decurtato nel senso che è stato decurtato sia da un punto di vista economico perché ricordiamo che sono otto anni che non abbiamo il nostro contratto rinnovato e sia anche numericamente, cioè la pubblica amministrazione non ha più turnover, non c'è più sostituzione a fronte di servizi che invece sono aumentati a dismisura.